ciao a tutti ragazzi bentornati nel nostro canale youtube oggi video unboxing del nendoroid di dio brando da le bizzarre avventure di jojo phantom bloc avevamo fatto il video unboxing di jonathan e adesso ecco qua quello di dio brando io vi ricordo che se lo volete acquistare trovate link in descrizione japan shopping service devo dire che questo nendoroid è uno spettacolo solo per la maschera di pietra la testa di dio tagliata veramente tanta tanta roba tra l'altro qui c'è anche un logo del quindicesimo anniversario dei nendoroidi tra l'altro nei 15 anni che vengono prodotti i nendoroidi bellissimo e quindi adesso andiamo a spacchettare allora qui intanto troviamo questo adesivo che possiamo tranquillamente tagliare se non rompiamo niente vediamo adesso come tutte le a no questa è venuta abbastanza bene qui c'è una pubblicità di questi insomma ganci per i nendoroidi come si può vedere già classica apertura e adesso tirare fuori la confezione qui ovviamente troviamo il nendoroid con tutti gli accessori qua abbiamo il manuale di montaggio di istruzioni sia in giapponese che in inglese sì 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 ecco qua ok poi ci sono le altre parti ci sono qui attaccati con questo scotch e adesso vi facciamo vedere da vicino il nendoroid eccolo qua allora aspettate che togliamo anche questa protezione di plastica ecco qui questa via e adesso andiamo a a vedere c'è anche un altro pezzettino allora la maschera è veramente un capolavoro c'è tanta roba anche il nendoroid sembra fatto bene adesso ve lo mostriamo nel dettaglio poi ci sono appunto le espressioni del volto il insomma il collo linea della testa staccata e adesso andiamo a tirare fuori l'endoroid di dio brando e lo facciamo vedere più nel dettaglio qui c'è questa specie di pluriball togliamo veramente bellissimo eh sì poi insomma anche i vestiti sono fatti bene sì davvero c'è veramente uno spettacolo i capelli qua con tutte insomma le varie creste i spuntoni no no anche i dettagli del vestito veramente tanta roba adesso lo mettiamo in qualche posa e ve lo facciamo vedere allora eccolo qua con la maschera come si può vedere anche qui in foto davvero ingegnoso il sistema per posizionarla c'è un perno che va sotto ai capelli e poi appunto la maschera si infila davvero realizzata molto bene tanta tanta roba davvero tra l'altro non avevo fatto vedere prima che c'è anche i dettagli degli orecchini come si può vedere veramente bellissimo c'è tanta roba e adesso vi faccio vedere un'altra posa eccoci qui adesso lo abbiamo messo in questa posa come si può vedere abbiamo anche cambiato l'espressione del volto davvero fatto bene molto bello adesso vi faccio vedere l'ultima posa eccoci qua adesso giusto per far vedere appunto l'effetto della testa staccata c'è da montare la testa su un altro perno che poi si attacca comodamente sul piedistallo quindi ragazzi io direi che per questo video unboxing del nendoroid di obrando è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace commentato condividete se volete iscrivetevi al canale io vi ricordo che il link in descrizione con cui potete acquistare il nendoroid un saluto a tutti e al prossimo video ciao ciao